per motivi ancora sconosciuti andrea di prespa un dissing pesantissimo definendo addirittura verme il signor marco mazzori marco mazzori è colui che nato per lo zoo 125 125 125 vincitore della isola dei famosi dell'anno scorso non quello di quest'anno è bene sì dissing è veramente pesante non voglio perdermi in chiacchiere e vi lascio subito il video a proposito mazzoli risponderà a messaggio tu mazzoli mazzoli io sono come l'orca assassina l'orca assassina è l'animale più intelligente di te sicuramente ma anche di essere di un essere umano ma di te sicuramente che non dimentica mai il verme che ha fatto a lei del male preparati mazzoli sei finito poco dio e anche tutti voi che seguite quella mia una di 105 di radio 105 di zona di 105